Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo sulla nuova avventura di Clash of Clans Io direi di andare a cominciare subito a raccogliere tutte le risorse che tra l'altro non mi hanno attaccato Quindi anche perchè stanotte è finito l'oscuro, tra l'altro posso avviare il re barbaro al 2 finalmente Adesso andremo a raccogliere piano piano, sperando di fare altri pezzi di mura In teoria si lagga, ovviamente deve laggare Bene direi di andare a fare subito dei pezzi di mura e magari andiamo a fare anche un attacco oggi Si ci sta a fare un attacco, tanto le risorse, le truppe ce l'ho quindi l'oscuro è finito ormai Non posso più farlo, nel frattempo ragazzi avvio il re barbaro al 2 E finalmente, finalmente ci impiega 12 ore, bene direi di andare subito a cercare il nostro degno avversario Ragazzi credo di averlo trovato l'avversario, c'ha tante risorse, ce ne è abbastanza Ed è inattivo e fa schifo al cazzo il villaggio Bene direi di provarlo ad attaccare sperando di fare il nostro meglio possibile Magari facciamo così Attacco solo da un lato con gli arcieri Perchè essendo che sono in massa poi fanno tanto male e spaccano tutto Nel frattempo togliamo dalle palle i mortai Così, almeno i mortai me li sono tolti Non tutti ovviamente Ma un paio me li sono tolti E fanno meno male Perchè in teoria in questi attacchi qua i mortai sono quelli che fanno più male di tutti Le altre truppe non fanno tanto male Sperando di fare bene sto attacco Per adesso sta andando bene Rimettiamo delle truppe di qua Allora che è una stella fatta Due dovrebbero essere fatte Senza problemi Sì due stelle fatte Sperando di farne tre Di rubare tutte le risorse Di distruggere il mortaio Perfetto, mortaio distrutto Quindi in teoria tre stelle dovrebbero essere fatte Spero di riuscire a farle tre stelle Se non tristello in questo attacco non è perfetto Bene 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 Allora in teoria è tristellato In teoria Sì sì È fatto è fatto Ho vinto l'attacco Bene ragazzi Tre stelle Bene Sono davvero contento di averlo tristellato questo Sì era abbastanza semplice Non era impossibile da tristellare Questo tizio Però sono contento Anche perché Fanno sempre comodo Ste stelle quindi Direi di andare subito A fare un pezzo di muro Di rifare subito l'esercito Con anche gli incantesimi Allora andiamo a farlo Io ragazzi nel frattempo Sto cercando di portarmi sempre più avanti Come avete visto anche da Dalla cosa del Del re barbaro Che io ormai l'ho fatto Ho fatto il re barbaro Al 2 E adesso direi di fare un altro pezzo di muro E di terminare il video So che è durato un po' pochino Sto video Però spero che vi sia piaciuto Io adesso chiedo altre truppe Bene Direi anche di terminare il video Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Alla prossima belle Ciao ciao Alla prossima